Un complesso commerciale e terreno del valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro nel territorio di Gualdotadino è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Perugia nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità legate a un'asta pubblica. Gli investigatori ritengono che gli immobili siano stati riacquistati dallo stesso destinatario del provvedimento attraverso un articolato sistema. Il sequestro è avvenuto in seguito a un decreto emesso dal GIP su delega della Procura Umbra. ipotizzando il reato di autoriciclaggio. Il principale indagato era già stato oggetto di un sequestro preventivo emesso nel 2020, ma non era stato possibile rinvenire denaro o beni riconducibili a lui. Si è scoperto che gli immobili sono stati acquistati da una SRLS con sede in Torgiano, fondata appositamente prima dell'asta giudiziaria, e tra i soci annoverava il genero del soggetto indagato. I fondi sono stati trasferiti in Slovacchia e poi riportati in Italia attraverso una società di Torgiano, che secondo gli inquirenti fungeva da schermo. Si sospetta che il denaro proveniente da presunte evasioni fiscali sia stato reinvestito dall'indagato per l'acquisto degli immobili già pignorati. L'immobile è risultato affittato alla società della figlia dell'indagato, già usufruente dell'immobile tramite un contratto di locazione risalente al 2015.